Benvenuti al corso di recupero dati, in questo corso vedremo come eseguire la cancellazione sicura da un hard disk. Facciamo partire il sistema Challenger OS da pendrive o da dvd e colleghiamo il Seagate alla porta serialata del computer. Direttamente dal desktop di Challenger OS lanciamo Challenger Rocket. Dal menu System selezioniamo Scan Disk Devices. E il riconoscimento della periferica appena collegata. Dal menu Pulsante Open Device selezioniamo dalla lista del Seagate da 2TB. Hex View e verifichiamo il contenuto dei settori del drive. Chiudiamo questo task e iniziamo la cancellazione sicura. Nuovo task, Drive Secure Erase. Diamo un nome al nostro task. e selezioniamo il drive da cancellare. Finish e Play. Confermiamo la cancellazione del drive. In questo caso ogni singolo settore del drive verrà sottoposto a cancellazione per sovrascrittura. I settori blu sono i settori che sono cancellati. Naturalmente il drive rimarrà perfettamente funzionante. Il vantaggio della cancellazione sicura per sovrascrittura è che viene eseguito un processo di ricertificazione completo del drive e ne vengono mantenute perfettamente tutte le funzionalità operative. Possiamo premere Stop e controllare il contenuto dei settori dopo la cancellazione. Come vediamo lo stesso carattere è ripetuto su tutti i settori. olersi M'uva M'uva M'uvas M'uva